Ho preso a cuore come Parlamento e abbiamo già espresso un indirizzo esplicito tra le condizioni del parere del TUSMA, l'audiovisivo europeo e crediamo che sia necessario rafforzare il sostegno all'animazione italiana perché l'Italia è un'eccellenza. Se voi guardate nei titoli di testa e di coda delle grandi produzioni internazionali troverete spesso un nome di un italiano e questo è indice di grande professionalità, di grande capacità creativa. Purtroppo l'animazione italiana, il mercato dell'animazione italiana è invaso da prodotto straniero, non ci sarebbe nulla di male se non ci fosse la reciprocità negli altri paesi europei e internazionali. Quindi l'Italia, e questo lo sta facendo il MIC, lo farà con i prossimi interventi sul tax credit anche per l'animazione, deve sostenere maggiormente l'animazione italiana e lo sosterremo.